Grazie a tutti. No, 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 solo. Senti, sono emozionata, ma la so. Grande. Vai. Se siamo fedeli alla missione, tocca il cielo nostro in statunitura. Noi non abbiamo il potere di scegliere il lavoro che facciamo, ma abbiamo un potere mostruosamente più grande che è quello di scegliere l'atteggiamento mentale con il quale facciamo questo lavoro. L'eroismo che allora recitiamo sarebbe di ogni giorno. Se noi stessi la china non curvassimo, ho paura di scegliere. Vedere, io facendo formazione, imprenditoria, quindi vedo tantissimi informatori in tutto il mondo, vedere un amministratore delegato di una società, come ti dicevo ieri, sul palco, fare formazione a questo livello, con questa grinta, questa determinazione, questa capacità, oggi e ieri per me sono state una sorpresa incredibile. Io non ti conoscevo prima, quindi penso che sia giusto concludere con un apprezzamento di chi ha dato il massimo in questi giorni e mezzo. E ti ringrazio. Come lo ripeto, tante volte ti arriva tanta ricchezza da persone da cui non te l'aspetti e non ti arriva nulla da persone a cui hai dato tanto. Però tutto si compensa e il conto corrente dell'universo funziona sempre alla grande.